Salve sorprese, nel momento in cui stiamo registrando questo video, Oliver Christensen sarà un giocatore della Fiorentina, sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Wikipedia lo ha già dato, in realtà ancora non è fatta nel momento in cui stiamo registrando, per vediamo se va a finire bene o se va a finire male. Ci scusiamo in anticipo che i tifosi viola che speravano nel suo arrivo se dovesse andare a finire male, perché non sarebbe la prima volta in cui portiamo sfiga. Parliamo un po' allora di Oliver Christensen, portiere classe 1999, nell'ultimo biennio Allerta Berlino, danese, sarà appunto, come dicevamo prima, come si dicono le voci di mercato da Firenze, il nuovo portiere della Fiorentina, farà parte del reparto portiere, il loro che la concorrenza la sa gestire abbastanza bene, poi ci arriviamo a vedere anche questo. Adesso andiamo un po' a capire che tipo di portiere è, che margine di crescita, comunque è un classe 99, ha 24 anni, ha già fatto anche le sue discrete esperienze, ma insomma, chiaramente per essere un portiere è ancora più che giovanissimo. Prima di tutto, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina, verificare che si attiva di modo che almeno vi arrivi nelle notifiche quando pubblichiamo i nostri video e ovviamente, come sempre, seguirci su Facebook e su Instagram e, attenzione, perché a giorni, e da un po' che lo diciamo, che ci saranno novità, ci saranno novità, ecco, ci siamo veramente, entro ferro e agosto dovremo riuscire ad avere le conferme da annunciare tutto, quindi mi raccomando, restate connessi con noi. Et Bundesitalia. Dunque, Oliver Christens è un portiere danese di nascita, danese di formazione, ha fatto tutta la trafila delle under, della nazionale, la sua squadra a livello giovanile è sempre stata l'Odense, spero di averla pronunciata giusto, sicuramente no, amici danesi, correggetemi nel caso avessi sbagliato. Lerta Berlino lo preleva nel 2021, nel momento in cui la squadra ha bisogno di un nuovo rilancio dopo la salvezza ottenuta con Paldarda e sarà una stagione, ovviamente, come tante altre, difficilissima per la squadra di Berlino e lui, in quell'erta Berlino, fa solo panchina. Il reparto portiere vede Alexander Shvolov, che in quel momento era il titolare anche in virtù dell'investimento importante fatto due anni prima dalla società. Comunque, era un buon portiere. In teoria, poi alla fine si è dimostrato forse molto meno meglio di quello che si credeva ai tempi del Friburgo. La Schalke, lo Schalke l'abbiamo visto, adesso sta a fare il secondo all'Union. Sta di fatto che Christensen, considerando anche la presenza del portiere titolare della seconda squadra, che era Marcel Lotka, che adesso è il numero uno della seconda squadra del Borussia Dortmund e spesso compone anche il trio di portieri della prima squadra. Ecco, complice anche la sua concorrenza, spesso e volentieri è finito per giocare addirittura con la seconda squadra in Regional Liga. Ecco, non bellissimo, no? Sia perché comunque l'erta aveva dimostrato di crederci investendoci 3 milioni, 3 milioni per un portiere dal Dodense, e comunque, insomma, non sono pochi per una squadra come l'erta Berlino di bassa classifica di Bundesliga, perché ormai era già diventata una squadra di bassa classifica. Ecco, Christensen al primo anno fa solo banchina. Il campo non lo vede mai, a tante volte appunto finisce anche escluso, finisce per giocare con la seconda squadra, fa 5 presenze, nella regular season della Bundesliga non fa mai neanche un minuto. Poi, improvvisamente, quando c'è da giocarsi la permanenza in Bundesliga allo spareggio contro l'Hamburgo, Felix Magath decide di fare la magata. Mette i titolari Oliver Christensen allo spareggio. All'andata l'erta perde, 0-1 in casa, al ritorno 22-0 in trasferta si salva, e quindi Christensen fa le sue buone partite, non proprio sicurissimo, però, insomma, non si può pretendere con portiere che esordisca così immediatamente, possa essere immediatamente l'impatto, ma in generale resta una sensazione di sorpresa rispetto a quello che è stata la sua prestazione. Tanto che, quello che sembrava un giocatore di fatto bocciato il primo anno, perché, insomma, se non gli si dava neanche un'occasione con uno Shvolov così incerto, era difficile immaginare che l'erta potesse dargli i galloni di titolare. E invece, anche per volontà del nuovo allenatore Sandro Schwarz, la stagione 2022-2023, Oliver Christensen, nonostante tanti dubbi che lo circondavano, la gioca da titolare, che poi effettivamente, pensando all'investimento fatto un anno prima, aveva abbastanza senso in quest'ottica. Poi, Cvolo aveva stato dato in presto lo Schalke perché non rientrava più nei piani, e infatti quest'estate è andato via. L'OTCA è andato via a zero al Borussia Dortmund. Si è parlato tanto di possibili innesti in entrata, si era parlato di Tim Horn, ma anche di altri portieri. Alla fine, però, la scelta dello staff tecnico e della squadra è stata quella di andare avanti con Oliver Christensen da numero uno. E quindi Christensen si è fatto tutta la sua stagione di titolare, giocando sempre. Ovviamente, visto anche l'epilogo con la retrocessione, non è stata una stagione facile per il portiere danese classe 1999, perché chiaramente l'Herta ha avuto da subito tantissime difficoltà, di fatto nelle quali lui c'entrava abbastanza poco, perché era proprio l'impianto di gioco comunque che non funzionava da cima a fondo, quindi è stato un po' un problema abbastanza generale della squadra, in cui lui chiaramente è finito in mezzo. Ha fatto la sua buona annata facendo vedere i suoi progetti e i suoi difetti, soprattutto però ha avuto continuità e questa cosa lo ha aiutato sicuramente a farsi, tra virgolette, buona pubblicità. Poi ha giocato anche le prime due giornate di Zvaite, ma in realtà l'Herta lo aveva già messo in vendita, anche perché comunque era un portiere su cui sapeva, un giocatore su cui sapeva di poter monetizzare qualcosa e chiaramente non sarebbe stato, secondo me, non gli avrebbe neanche reso giustizia fare il primo in Zvaite, e rischiando anche di rimanerci in Zvaite, perché insomma la promozione dell'Herta è tutt'altro che certa. Si sapeva che sarebbe arrivata un'offerta, infatti poi è arrivata dalla Fiorentina che ha contentato la società, eccetera, eccetera. Oliver Christensen le prime due le gioca, anche perché quello che doveva essere il titolare, Marius Gersbeck, che era arrivato dal carattere, insomma c'erano ottime aspettative sul suo acquisto, e diciamo che non ha cominciato proprio benissimo, perché ha menato una persona durante il ritiro in Austria, quindi in questo momento la sua situazione è un po' fuori squadra, insomma non si capisce ancora bene, c'è anche di mezzo una questione di indagine della polizia, doveva essere titolare anche perché lui era molto attaccato alla maglia dell'Herta Berlino, cresciuto nel club, eccetera, eccetera. E' successa questa cosa, Christensen ha giocato, ma era un giocatore che comunque era già sul mercato, uno dei tanti tra l'altro che l'Herta Berlino ha sul mercato, mi vieni, mette anche Luca e Bacchio di qui, peraltro vi metto qui il link per andare a vedere il video, perché potrebbe essere un nome che torna buono in Europa, più da club italiani in questi ultimi giorni di mercato. Dunque, che portiere è Oliver Christensen? È un portiere che sicuramente non fa della sua sicurezza un punto di forza, ha molta personalità, questo sì, a volte è anche troppa, nel senso che a volte si concede un po' a delle avventure un po' estreme. Non è ancora un portiere sicuro, perché a livello tecnico è ancora un pochino lacunoso, dalla sua, che poi sicuramente è il suo punto di forza, ha un fisico lungo, è alto 1,90, ci sono stato a fianco, quindi insomma mi sono reso conto che non è basso, quello no, però non è un portiere spesso, grosso fisicamente, è un portiere molto atletico, molto acrobatico, come stile di parata, ecco, è un portiere spettacolare anche a vederlo, gli manca però proprio l'allenamento, cioè mi sembra che sia ancora un po' da sgrezzare, deve affinare un po' alcune cose, non è un portiere super bravo coi piedi, ci sa fare, non è un disastro, ma non è nemmeno il suo punto di forza assoluto, il suo punto di forza è proprio la difesa della porta dei pali, perché ripeto è un portiere veramente molto acrobatico, ha anche braccia lunghe, quindi nel momento in cui comunque ti esce davanti, ecco, non è scontato fargli gol, però ecco, diciamo che magari non è quel profilo di portiere, secondo me questo è un pochino forse l'ha anche penalizzato, che è super bravo coi piedi, poi per carità io non so come ha lavorato, però questo è quello che ha dimostrato fino all'anno scorso. Il vantaggio, secondo me grosso che ha, mi sembra abbia molti margini di miglioramento, cioè la sensazione, vedendolo, è che abbia ancora proprio tante cose che deve migliorare, ma soprattutto che le possa migliorare, quindi che abbia anche un ottimo potenziale, no? E questa cosa volendo è anche testimoniata dal fatto che la nazionale danese comunque lo convoca, lo tiene in considerazione nel giro, ha esordito ancora nel 2020, quando ancora stava all'Odense, poi da quando era allerta è entrato nel giro, è stato convocato per i mondiali, è uno che comunque fa parte del giro, ha fatto un po' dentro e fuori, nel 2023 non è più stato chiamato, ma ecco, è uno tenuto in considerazione anche dalla nazionale. Potrà fare bene in Italia? In Italia sì, secondo me sì, può fare bene in Italia, non penso che giocherà subitissimo da titolare, penso che soprattutto per una questione di abitudine a giocare in una squadra organizzata, possa un attimino aspettare e partire fuori, so che la Fiorentina farà le coppe, può essere che comincia a giocare nelle coppe per la prima parte di stagione, è un'ipotesi che sto facendo io, però ecco, viene per fare il titolare, cioè l'idea sua penso che sia quella di venire per giocare sul posto da titolare, non so dal punto di vista della società che cosa hanno in testa, però lui comunque vuole giocare, perché un'annata in panchina se l'ha già fatta in Bundesliga, l'anno scorso l'ha fatta la titolare comunque in Bundesliga, il suo obiettivo è quello di mettere minuti, probabilmente per fare il secondo avrebbe avuto anche tante altre offerte, ma è giustamente lui in questa fase della sua carriera vuole giocare, ecco, quindi mi aspetto che appunto questo suo, diciamo in virgolette, desiderio venga secondato non subitissimo, ma che alla lunga poi comunque si riveli un potenziale titolare, uno che può concorrere per la maglia numero uno. E dunque questo era Oliver Christensen, portiere ex-Herta Berlino, ormai portiere della Fiorentina, mi auguro, visto che mi ha fatto questo video per i tifosi viola, per aiutarli a capire meglio un po' chi è questo ragazzo, chi è il loro nuovo portiere da Giorgio Dusi, per oggi è tutto, continuate a seguirci, mi raccomando, su tutti i nostri canali BundesItalia, al prossimo video, e alle prossime cose, per oggi i capefertiche, ciao a tutti.